Io credo che la Green Economy stia aprendo una grande opportunità a tutte le tecnologie di imprese, il tutto correlato ai diritti di nuova generazione che stanno giustamente montando un po' in tutto il mondo. La salvaguarda dell'ambiente, la salvaguarda del nostro pianeta sta diventando sempre più focale e la non osservazione di queste necessità di salvaguarda poi producono a cascata tutta una serie di conseguenze molto problematiche anche dal lato strattamente economico. Nella nostra regione l'opportunità per le imprese di poter seguire questo filone di Green Economy sta aumentando, il tutto legato a un tema di economia sostenibile che sta toccando diverse aree di business che noi vediamo nel nostro territorio. Anche per IMA tutto questo sta focalizzandosi sui due elementi fondamentali che sono il mondo no plastic. Abbiamo identificato un nuovo marchio che è Imanop che tenderà a privilegiare l'utilizzo di materiali assolutamente riciclabili e soprattutto gestibili in maniera diversa, più sostenibili per l'ambiente e dall'altra parte stiamo entrando fortemente nel ragionamento della mobilità elettrica attraverso i nuovi sistemi di automazione propedeutici per la costruzione dei motori indirizzati a questa nuova tendenza. Credo che le opportunità siano tante, è opportuno perseguirle e quindi in questo la nostra regione può avere un ruolo rilevanti in campo nazionale. Il rapporto è sempre interessantissimo, ma è molto puntuale e dà proprio la percezione di questa vivacità italiana anche da un provvista tecnologico che può soltanto aiutarci in questo percorso. Un messaggio magari alle piccole e medie imprese italiane, la vostra adesso è un po' più grande e anche ai giovani a chi cerca lavoro. Un messaggio relativamente a questo tema, le piccole e medie imprese si stanno rendendo conto che osservando con grande attenzione quest'area di mercato apre a grandi opportunità e credo che tutto questo possa trascinare positivamente un'occupazione giovanile che più di alta è sensibile a questo tipo di tema.